Ecco 18 momenti così assurdi che se non fossero stati registrati nessuno ci crederebbe. Ma prima non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per 10 anni di buona fortuna. Credeteci, funziona! Numero 1 Il cliente gli lancia la banconota e lui si vendica allo stesso modo. Occhio per occhio, ma la reazione del cliente forse è un po' esagerata. Numero 2 Pesca grossa, forse anche troppo grossa. Numero 3 Guardate questo cagnolino che cerca rogne con i poliziotti. Esilarante! Numero 4 Alla signora era caduto il telefono in acqua e l'animale glielo ha riportato. Un beluga da riporto è incredibile. Ed è fetticod! Oh mio Dio! Ed è fetticod! Ed è fetticod! Oh mio Dio! Numero 5 Questo fotografo si accorge che la batteria del drone sta per esaurirsi Così si lancia in acqua per recuperarlo prima che si bagni Appena in tempo! Che fortuna! Momente di panico, ma sicuramente ha delle riprese incredibili Numero 6 Troppo legno sul rimorchio, ma l'autista sembra davvero determinato Numero 7 Il vento è talmente forte che spazza via il tetto di questo palazzo Terrificante! Numero 8 Un camion di animalisti è pronto a liberare gli uccelli nel loro habitat naturale Guardate che scena impressionante! In neanche 15 secondi sono tutti fuori! Numero 9 Un modo decisamente originale e innovativo di pescare Ma forse non così efficace alla fine Numero 10 Questa ragazza stava provando a prendere una bibita dall'altissimo scappale del supermercato Quando tutti i prodotti le sono caduti addosso Aia! Numero 11 Questo è davvero incommentabile Ma sentite quanto dura il segnale della censura In effetti Chi non avrebbe reagito così? Numero 12 Un drone che doveva spaventare i passanti Ha finito col spaventare il proprietario Quando si è schiantato al suolo in pochi secondi Numero 13 Questo ragazzo è il fortunato primo compratore del nuovo iPhone Ma quando prova a mostrare il telefono ai giornalisti Gli cade a terra Che disastro! Grazie a tutti Allora Allora We're doing the review Agenda check No! Shit! All good All right When cameras pot a woman At the U.S. Open Dipping a fried chicken strip Into a cup of cola numero 14 questa ragazza è metropolitana wow qualcuno le faccia un contratto come top model numero 15 provano a riparare l'ammaccatura sull'auto in un modo davvero originale e incredibilmente il risultato è fantastico numero 16 la ruota si sgancia mentre stai pedalando nessun problema tanto torna a posto da sola numero 17 chi ha detto che serve per forza la neve per sciare complimenti per l'inventiva numero 18 una moneta in acqua affonda ma non questa con la giusta angolazione grazie al peso leggero e perfettamente bilanciato della moneta e alla pressione dell'acqua ecco un piccolo miracolo della fisica non dimenticatevi di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri incredibili video come questo alla prossima ciao 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 ciao